pronto? zia che fai? amore! qua sono! posso venire a mangiare da te domani? sì certo, certo gioia mia! che porto? che porti tu? niente! l'apri senza! e basta! non esce le soldi per non buttare niente! vuoi la pasta a forno? o la salvi? quello che vuoi! in mortine! quello che vuoi a tia provare! per me è uguale amore mio! a tia ti ha comprato un pencerino! miiii! ma quanto bene mi vuoi! io ti voglio accorre tanto tanto bene! io ti voglio accorre bene più bene della mia vita! c'è un ragù! ci sono! i pesetti ci mettono dentro! capisci? bella guagliata! a mia carosa mi piace così la pasta a forno! no che ci fanno sentire a bruciare! ciao! ciao!